Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video, ecco voi il vostro Llegati97 Oggi siamo qua con la prima partita di Knockout City E' la mia prima partita? Siamo in compagnia di Diego, detto anche Sisma, che mi spiegherà le principali regole perché io non ho mai aperto questo gioco Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, di lasciare un bel mi piace qua sotto, di attivare la campanella delle notifiche E io vi auguro una buona visione Il gioco in cosa consiste? Io ho la palla, prendo te la lancio e ti devo colpire, ok? Col tasto destro c'è il blocco, ok? E col control invece fai una specie di carica e tutte le due cose interrompono la palla Adesso prova a fare un blocco e a prendere un po' di volte la palla Bravo Se lo fai a livello perfetto Praticamente sblocchi la palla aumenta di velocità Se passi la palla a un tuo compagno Quella palla è subito viola, capito? Ah, ok Se tu premi Q e tasto sinistro Q e tasto sinistro Esatto, fa il pallonetto Invece con E tasto sinistro Faccio un tiro al giro Ad esempio io sono qua dietro, tu fai il tiro al giro Visto? Riusci a prendermi Ok, facciamone una Ah, con F puoi fare la finta, vedi? Guarda Finta, finta, finta Tiro dentro Ti sembrerà un casino all'inizio? Posso immaginare Un po' lo è all'inizio Però Ci proviamo, non ti garantisco niente Perché siamo in due contro due, tre? Perché siamo trasgressivi noi Siamo più forti Tieni premuto alto Esatto Io ti posso prendere come palla Se io ti tengo premuto Guarda, eh Ti posso lanciare così Vai, vai verso di loro E scendi ed esplodi Bravo, hai fatto un K Vieni verso di loro Cerca di stare sempre con il tuo team Passa Passa È centrale, centrale Centrale Aia Ma parole, ragazzi Non vedo le palle io Mi date una palla Per cortesia Oh, oh, oh Eh, non sono riuscito Vieni qua, vieni qua Vai, vai, vai Sparala subito Te lo spari subito Eh, vabbè Non addosso al nostro compagno Oh Chi è? Non si Non si Aia Stiamo un po' perdendo, eh Eh, vabbè Ti devo carriare Come al solito Ah, se fai Se vai in control Contro gli avversari Sì, gli faccio male, eh Sì Devi stare col team Porco Ecco Abbiamo perso Va bene Come c'è qualcuno che non sta facendo niente In tutto questo Sono io, Diego Ah no Non volevo dirlo Sono una piccola palla Pronto? Vai Pronto Vai, vai Esplodigli in testa Esplodi Bravo Ah ma poi parto da qua io Ahia Bravo Lorenzo Ma dove sono loro? Eh, sono morti Saranno ma vero Ma stiamo vincendo Basta Lorenzo Ahia Non l'ho vista Sono morto 3-3 Sto Eh, una sinistra Una destra Una vera Madonna A filo Arrivo, arrivo Lorenzo Vai, vai, vai Ahia No, veloce Ne ho presa una Ma mi è arrivata l'altra Ahia Ma chi è questo? Ma cosa vuole da me? Lorenzo, chi è verso di me? Dove sei? Ahia Ma basta No Palle Oh, hanno vinto Ma va Ragazzi Siamo rimasti da soli E adesso faremo una partita Noi con degli sconosciuti Ma io sono una donna Ma sono appena caduto In un buco Oh la madonna 3-0 Che figata Prendi la palla Ho sbagliato mira Va bene Che bella Vorrei una palla Io però In questo momento Una palla Oh la madonna Oh la madonna Aia Scappa Io una palla non ce l'ho mai né Madonna a loro i loro buchi Perdonatemi ragazzi ma è la prima partita che faccio Non è vero la seconda Aia Aia Ti odio Affanculo ne ho appena ucciso uno Non è andata male questa mano però Che è andata male perché abbiamo perso però Sto capendo come funziona questo gioco Ragazzi scrivete qua sotto nei commenti Se volete ancora questo tipo di video E adesso farò l'ultima partita E poi vi abbandonerò No ma ci ho lato la palla Aia Muori Aia No ho sbagliato Il tubo qua è bellissimo E qua c'è una palla tutta per me Aia Ma basta Non faccio tempo a sparagli Che sono già morto Sta andando molto male questa mano Mi sono appena schiantato contro un palo Ah basta Palla Come seconda partita direi che è andata molto male Dai voglio la rivincita Su Cambiamo il personaggio in un pelato E andiamo alla prossima partita Cantiere spacca ossa Fa la bomba Non so cosa stia succedendo Però va bene E qua ci sono i nostri avversari E qua invece siamo noi La mia squadra Quello giallo sembra Stepney Però va bene Team KO Round 1 Porca puttana Oh grande Von Quello che come diavolo ti chiami C'ho una bomba Mi sono penso tipo ucciso Però va bene Aia 3 a 3 però stavolta eh Qua c'è un bouco Aia Nooo Maledetti Schifosi Qualcuno ha appena esploso Mi dai una palla Mi dai una palla Colpito Colpito Aia Nooo Non l'ho parata Ragazzi scusate se non parlo La palla Non mi vedevo più Pensavo fossi morto prima Però stiamo vincendo 8 a 6 E muori Aia Adesso loro hanno una palla Dai Oh Primo round Vinto Inizia il round 2 Come dice lui Io Ho una palla Bella No Nooo Aia Stiamo perdendo però eh Porca puzzola Che sberla Ma dove sono i miei amici A fare qualcosa C'è una palla Bomba tutta per me C'è un problema però Una palla normale Incredibile Zio ti seguo Perché non so dove devo andare Che c'è un problema C'è un problema Oh così si fa Ma è appena caduto giù Muori male Non mi è piaciuto questo rumore Dai una pallina Oh siamo troppo forti Con questa bellissima partita addirittura vinta io vi saluto Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi Di lasciare un like e di attivare la campanella delle notifiche E ci vediamo al prossimo video Mi raccomando scrivete qua sotto nei commenti se vorrete altri video di questo genere Ciao ragazzi